Cosa pensi delle opere d'arte in limited edition? Credo che siano una grande opportunità. I multipli d'arte sono delle opere realizzate in un'edizione, in una tiratura quindi, predeterminata di copie, siano esse delle stampe, delle sculture o anche degli originali, vengono realizzate dall'artista o su un'opera esistente oppure realizzate direttamente ex novo per l'occasione. L'artista decide quindi di riprodurre una serie che mediamente viene numerata, firmata a mano o meno dall'artista e poi rivenduta. Perché sono importanti le limited edition? Perché danno l'opportunità di entrare in un mercato accessibile, ossia mediamente si ha l'opportunità di acquistare un'opera anche di un grande artista, pensiamo a Banksy, pensiamo a Obey, pensiamo a Invadere e un sacco di altri street artist ma anche John Wan, pensiamo a Koons ma li faceva anche Picasso, Miró e ancora tantissimi artisti. Questa è la possibilità di avere un'arte davvero accessibile in cui i multipli sono la chiave di un accesso a un pubblico più grande e comunque interessato a questo. Oggi le chiamano limited edition prints, si chiamano multipli, definiva così i monari o ancora possono essere appunto un'edizione in serie. Molti dicono quante devono essere le copie, dicono che fino a 5, più o meno queste sono le varie teorie, si tratti ancora di originale. Che siano firmate o meno questo determina il loro valore, quindi potrebbero essere firmate addirittura in plancia, ossia in stampa, questo vale per Banksy, vale per Picasso per esempio, oppure autografia a mano. Questo determinerà il suo valore. L'esempio degli street artists è Lampante, limited edition vendute a 70 dollari, la sera stessa poi vengono rivendute per più del doppio, il triplo, online, su ebay o su altri siti. Al di là delle speculazioni economiche, quello che è interessante per un artista è capire in quale punto della sua carriera è, se è utile farlo o meno. I multipli in Italia sono visti come una sorta di arte minore, seppure in questo momento ci sia una grande rivoluzione in tal senso che sempre più collezionisti dedicano dello spazio anche a questi multipli, appunto per questi grandi artisti che in qualche modo decidono di entrare in questo mercato, vediamo anche Kunz per esempio. Ma per un artista emergente bisogna essere sicuri di avere un pubblico di collezionisti abbastanza grande, ossia abbastanza persone che potrebbero acquistare quelle opere. Se tu vendi gli originali a 1000-2000, probabilmente inutile fare un multiplo da 600, ma bisogna capire se ti è utile farne uno da 70, da 100, rischiando anche che da un lato o non si vendano o che addirittura ti cannibalizzino l'altro mercato, ossia i collezionisti prenderanno magari un multiplo a discapito di un originale. Quindi questa scelta di produrre o meno questi multipli deve essere calmerata e misurata in base al tuo percorso artistico e capire quindi se questi sono strategici. personalmente consiglio sempre di farli nel momento in cui si ha una grande community, un grande numero di persone che in qualche modo possono accogliere e comprare la tua arte, soprattutto se questi non si possono permettere gli originali. Allora i multipli sono un'ottima soluzione.